Da GameFox, ecco qui per voi Jacofox che vi presenta e vi fa un video per il primo anno su YouTube. Ragazzi, sì, è un anno che sono su YouTube, siamo arrivati a 73 iscritti se non sbaglio e per me ragazzi sono tantissimi, anche perché i primi 4 mesi non ero molto attivo diciamo, anche forse di più. Comunque ragazzi, veramente ok. Vi metto adesso subitissimo il mio primissimo video con un audio migliore di quello che era. Bene, ve lo metto subito. The King of the Games, nuovo canale di YouTube. In questo video parleremo del canale, per esempio dei vostri commenti, che possono essere sia positivi che negativi. Ma non offensivi. In questo canale mostreremo videogiochi, film eccetera. A proposito, nei commenti scriveteci cosa vorreste vedere. Come un film in particolare o un gioco in particolare, il primo film o anime non è ancora arrivato in Italia. Che arriva a 10 richieste, proveremo a doppiarlo. Se ci chiederete dei giochi, li faremo per PC e PS3. Parliamo della troupe. Siamo in tre. Sono Jakofos, responsabile della scendiatura audio e video. Lui è Jutman Fox, il responsabile del canale. Ed ecco Step Fox, il responsabile del montaggio. E ora, parliamo dei miei gusti. Mi piacciono molto i giochi creativi. Come Minecraft. O quelli di zombie. Il mio preferito è Resident Evil. Qualcetto? Mi piacciono molto le prezioni. Come questo è l'unica. Sonoакif Happig golpe. Come購ire il mondo. Siamo in questo modo. Il è di 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 Dio. Ah che bei ricordi Buone giocate da Hang of Game E al prossimo video Buon anno ancora